Domenica sarà Spespray a Gruppo Vena-Cosenza. Entrambe le squadre arrivano alla 17esima giornata del campionato di Serie C calabrese dopo una sconfitta e dunque stanno affilando le armi in vista dello scontro che le vedrà scendere in campo domenica alle 18 presso la palestra comunale di Via Verdi. La spesa al momento si trova al centro della classifica, settima con 23 punti a più 4 dai Cosentini. La gara di andata era stata segnata dall'equilibrio tra le due compagini tanto che finì solo al tie-break a favore dei Bruzzi. Domenica però Mister Borrelli potrà contare su una rosa molto più esperta rispetto a quella scesa in campo il 15 novembre, ancora out e sposito dopo l'infortunio di due settimane fa. A chiudere la diagonale con Magurno sarà Marco Salmena. Al centro Caruso e Filizzola, mentre a posto 4 confermati ignoto e armenante. Anche Mister Borrelli sarà costretto a rimanere a guardare a causa di un fastidio al ginocchio. Sarà a Orlanda a ricoprire il ruolo di libero. Trasferta invece per la DRS Elio Gruppo Eccetraro che sarà a Pizzo Calabro in casa dell'ultima della classe Nuova Volomen. Turno di riposo infine per la neopromossa Scuola Volley Paola. In Serie B1 tutta un'altra musica per la fresco Il Gelato Lago Negro che dopo la batossa subita contro la capolista, domani ospiterà il fanalino di coda Pallavolo Martina. Occasione quella di domani di sorpassare i cosentini che nella quattordicesima giornata consumeranno il turno di riposo e con i quali i valnocini dividono il quarto posto. Una nuova opportunità dunque per avvicinarsi alla zona playoff. Grazie a tutti.